buongiorno a tutti ringrazio il presidente sangalli con commercio per l'invito a partecipare a questa importante giornata della legalità e l'anno scorso purtroppo non siamo riusciti a organizzarla proprio a causa della pandemia e quindi è importante oggi essere qui essere qui in presenza perché in effetti ci siamo sentiti con il presidente e abbiamo ritenuto importante perché anche un messaggio di speranza per il futuro che ci aspetta e d'altra parte è questa un'occasione di riflessione condivisa su temi che considero essenziali ai fini del rilancio di quel tessuto produttivo che tutti auspichiamo e per cui anche le aperture dei prossimi giorni possono rappresentare davvero un volano per la nostra per le nostre imprese che hanno avuto tanta difficoltà ascoltato con molto interesse e anche visto le statistiche che il dottor bella del direttore dell'ufficio studi ha portato in effetti sì il 50 per cento in meno di fatturato da parte delle aziende e si è sentito c'è poco da fare c'è un questo periodo è stato un periodo pesante un periodo che ha inciso anche su altri tipi di fenomeni come quelli dell'usura e mi piace molto anche il dottor ciatti quello che diceva per quanto riguarda il presidente dell'ambulatorio ecco questo non l'avevo mai non l'avevo sentita il presidente dell'ambulatorio anti usura di commercio imprese e ambulatorio vuol dire che c'è un malessere e quindi io davvero penso che è necessario da parte di tutti ed è questo un poco quello che è emerso dai vari interventi l'esigenza della denuncia perché la denuncia fa sì che ognuno di noi non debba più sentirsi soli nell'affrontare una situazione complicata quale quella dell'usura che purtroppo in questo periodo sta avendo dei dati in crescita quindi conosco bene la situazione di disagio che ha interessato i lavoratori anche autonomi i libri professionisti e le piccole e medie imprese che rappresentano davvero il motore economico del nostro paese e noi come ministero dell'interno tramite i prefetti stiamo svolgendo una importante opera per stemperare quelle che sono le tensioni emergenti facendoci anche tramite delle stanze a livello locale da portare al governo e quindi vorrei anche dire che l'attenzione è volta del ministero dell'interno è volta anche e soprattutto a far sì che le risorse che il governo ha messo in campo in questo periodo di pandemia per supportare i circuiti legali dell'economia andassero a finire nelle mani della criminalità organizzata è indubbio che lo scenario in atto sia di estremo interesse per le mafie capace di adattarsi ai cambiamenti ai mutamenti socio economici e cogliere nuove opportunità di investimento io su questo aspetto ho sempre avuto un focus particolare e l'ho sempre detto dall'inizio della pandemia perché so bene che quando ci sono delle risorse nuove e di risorse ce ne sono state tante messe in campo dal governo la criminalità organizzata facilmente cerca di inserirsi nel circuito dei finanziamenti tante volte lo fa anche con una forma di welfare alternativo e i cittadini non sempre si rendono conto davanti a un momento di difficoltà che invece bisogna essere molto attenti perché una volta entrati in un circuito di illegalità è difficile uscirne quindi si tratta questo ovviamente di un'esigenza di attenzione da parte del ministero dell'interno e proprio presso il ministero dell'interno io ho voluto costituire un organismo di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazioni nell'economia da parte della criminalità organizzata e proprio all'inizio di questa crisi pandemica e tramite questo organismo noi abbiamo una situazione sempre molto attenzionata per cui riusciamo a fare gli interventi giusti anche al momento giusto e quindi si tratta questo di adottare delle misure di prevenzione e contrasto che ovviamente devono essere devono tener conto di una giornata conoscenza della delle dinamiche in atto si tratta di un approccio condiviso anche in sede europea al punto che su iniziativa italiana è stato istituito un gruppo di lavoro copreseduto dal nostro paese unitamente a Europol in cui si stanno mettendo a fattore comune con i partner europei le informazioni sugli scenari criminali come si rileva dalle analisi dell'organismo di monitoraggio e qua voglio dare dei numeri i sodaliti tendono a muoversi lungo più direttrici forme di assistenza come dicevo io prima alle famiglie in condizioni di disagio quindi contraffazione abusivismo commerciale truffe online riguardanti soprattutto i dispositivi medico sanitari intromissione anche in diretta nelle economia legale eh nei settori dell'economia legale considerate appunto più vantaggiosi la condizione di vulnerabilità delle attività commerciali soprattutto delle piccole e medie imprese aumenta il rischio come dicevamo prima e come è stato rilevato da tutti coloro che hanno anticipato il mio intervento eh aumenta il rischio di sviluppo dei fenomeni usurari e del possibile ingresso delle compagini della criminalità organizzata eh negli assetti gestionali delle imprese anche infini del riempiego riempiego di capitali illeciti. L'usura è un tipico reato spia in quanto sintomatico della penetrazione mafiosa sui territori e viene gestita sempre con metodi più sofisticati generando danni all'economia creando un rapporto di dipendenza verso il mondo criminale che riesce così a sfruttare le situazioni di carenza di liquidità degli operatori. Mentre l'indice dei reati commessi eh l'abbiamo sentito prima ha subito un generale decremento rispetto al passato non fosse altro perché eh abbiamo avuto un periodo di lockdown siamo stati bloccati nelle nostre case quindi eh diciamo che abbiamo avuto un meno venti per cento di dei reati commessi nel duemila e venti rispetto all'anno precedente. Il fenomeno dell'usura invece ha ha visto un aumento percentuale. Abbiamo avuto duecentoventidue casi nel duemila e venti rispetto mh un aumento del quindi eh con un sedici per cento in più rispetto al duemila e diciannove dove erano stati rilevati cento novantuno casi. A livello regionale dei duecentoventidue casi di usura quarantatré hanno riguardato la Campania pari al diciannove virgola quattro per cento del totale seguita dal Lazio con trentasei episodi dalla Sicilia con venticinque episodi e dalla Puglia con diciassette casi. Il Friuli ha registrato invece un incremento di denunce passando da un da un solo evento del duemila e diciannove ad otto casi del duemila e venti. Quindi nella lettura del fenomeno mh che adesso eh ora ho terminato di dirvi non va trascurato il fatto che l'usura è certamente un reato di tipo sommerso proprio per la difficoltà che hanno le vittime di denunciare e talvolta eh dobbiamo noi anche con delle campagne di informazione spingere i cittadini a intervenire e far presente questa situazione di difficoltà. Tante volte non lo fanno anche per vergogna perché temono di essere caduti in in situazioni di difficoltà anche nei confronti della loro famiglia però invece secondo me proprio tramite l'ambulatorio eh del del che abbiamo detto prima del dell'usura secondo me occorrerebbe eh fare eh e questo lo stiamo facendo anche noi come Ministero dell'Interno una campagna ancora più di sensibilizzazione su questo tema. È da considerare anche il risultato mh quindi sulla percezione dell'usura eh come diceva il dottor Bella da cui emerge che il 27 per cento degli imprenditori del commercio indica che nel corso del 2020 un aumento di di una di tale fenomeno mh a fronte di una percentuale del 12,7 per cento dell'anno precedente. Quindi di fronte a fenomeni che si manifestano in forme così insidiose e eh e nascoste quindi l'azione dello Stato eh deve essere non soltanto un'attività eh repressiva perché eh certamente bisogna intervenire anche nei termini ma occorre che ci sia anche un ruolo decisivo della capacità di fare squadra. Ecco io devo dire che anche in questo periodo noi abbiamo avuto un rapporto costante con il Presidente Sangalli anche in relazione alle manifestazioni che ci sono state e ce ne sono state tante. Voi considerate che soltanto nei primi tre mesi di quest'anno noi abbiamo avuto circa quattro mila e trecento manifestazioni. E io devo ringraziare anche il Presidente eh Sangalli per aver saputo eh governare delle situazioni di difficoltà che sicuramente anche i discritti avranno rappresentato eh che tuttavia hanno consentito lo svolgimento di manifestazioni di eh diciamo in cui venivano manifestato veniva manifestato il disagio che ognuno eh ha vissuto in questo periodo in maniera eh civile perché eh è facile eh urlare è facile poi che ci siano anche infiltrazioni e strumentalizzazioni di di eventuali eh manifestazioni di di protesta e purtroppo lo abbiamo visto in eh in questo lungo periodo perché ormai è più di un anno. Eh e devo dire che le forze di polizia hanno operato sempre al meglio cercando di coniugare quella che è la determinazione eh nel nel rispetto delle regole anche con quei principi di umanità che non devono mai essere lasciati da parte. Certo ora andiamo verso un periodo di di riaperture e sarà ancora più delicato perché eh abbiamo tanto aspettato questo momento però ritengo anche che questo sia il momento della responsabilità perché neanche si può pensare che eh dietro ognuno di noi ci sia un rappresentante delle forze di polizia e e d'altra parte è quanto mai necessario eh evitare di ricadere un'altra volta in un momento difficile perché la riapertura si è anche eh diciamo un un gesto di 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 responsabilità per dare eh la possibilità a a alle imprese eh anche al commercio di di riprendere quindi anche alla nostra economia però eh è anche un eh ci vuole grande senso di responsabilità da parte da tutti non è un un libera eh tutti perché non può essere così. Noi dobbiamo cercare di eh di preservare anche il futuro e il futuro lo preserviamo tutti quanti insieme cioè lavorando insieme con le regole che ci ci vengono date e con con il rispetto di queste regole perché abbiamo visto che altri paesi sono ancora eh in lockdown sono ancora in chiusura perché quando sembra che la pandemia ci ha lasciato poi invece ritorniamo nuovamente nel nella spirale dei contagi. Quindi io davvero eh se posso lanciare un messaggio è è proprio questo. Sì noi faremo i controlli e saremo particolarmente rigidi perché non possiamo rischiare di buttare tutto eh a mare quello che abbiamo fatto fino ad ora perché sono stati anni un anno di di sacrifici per tutti e quindi noi questo eh questa eh spirale che abbiamo di di apertura e e anche mh perché crediamo nel senso di responsabilità di ognuno di noi. Quindi mh molte prefetture devo dire che hanno operato in questo periodo o in maniera eh concreta di con rapporti con tutte le associazioni di categoria e io hanno stipulato accordi penso per esempio alla città eh di Milano dove è stato fatto proprio un 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 accordo eh per l'accesso al credito eh legale da parte degli operatori economici e delle famiglie. Quindi tanti protocolli stipulati dalle prefetture che prevedono anche strumenti finalizzati ad agevolare attraverso l'impegno dell'ABI e delle associazioni di categoria eh proprio l'accesso eh rendere più facile l'accesso al credito e la rapidità dell'erogazione delle somme. D'altra parte anche a livello di governo quando abbiamo dato eh nel nel 2020 eh la possibilità di di eh alle imprese di poter avere dei crediti da parte delle banche. Io abbiamo sempre tenuto presente l'esigenza che eh le risorse arrivarono arrivassero con immediatezza eh senza mai tuttavia rinunciare a quelli che sono i controlli ovviamente antimafia. Abbiamo fatto dei dei protocolli con la Sace, abbiamo fatto dei controlli con con l'agenzia delle dei protocolli con l'agenzia delle entrate proprio perché eh sulla base di questo presupposto celerità nel dare risorse ma senza eh eh rinunciare ai necessari controlli anche se fatti successivamente all'erogazione perché ognuno ha dovuto firmare eh quindi delle autocertificazioni ma eh era importante proprio per evitare che poi eh i cittadini potessero cadere nella nella in questo problema gravissimo dell'usura che le risorse arrivassero immediatamente. E devo dire che i commercianti e le famiglie che si sono ribellate alle pressioni malavitose scegliendo anche la legalità e rivolgendosi anche al fondo anti racket e anti usura. E devo dire su questo il Ministero dell'Interno ha operato bene perché di riunioni ne sono state fatte tante e le stanze di concessione del mutuo destinate alle vittime di usura denotano un trend in diminuzione con 255 richieste inoltrate nel 2020 a fronte delle 353 inoltrate nel 2019 ehm però le regioni anche in questo caso dalle quali proviene il maggior numero di stanze si confermano la campagna con eh 36 stanze il Veneto e la Puglia. Nel corso del 2020 il Comitato di Solidarietà ha eh eh ha deliberato la concessione di muti per circa 3 milioni e mezzo di euro di cui circa un milione e tre alla campagna e oltre 680 mila euro per la Puglia. E così in questi primi tre mesi del 2021 dodici domande di accesso al fondo per le vittime di usura sono state accolte deliberando la concessione di mutui e lo voglio dire perché sono 620 mila euro ma sono soltanto i primi tre mesi dell'anno. Quindi dobbiamo incentivare quello che dicevo prima, questi comportamenti responsabili che portano alla denuncia, alla richiesta di aiuto allo Stato, ai cittadini, alle imprese, si chiede di eh rifugire da atteggiamenti di omertà e quindi è imprescindibile anche il ruolo come dicevo prima dell'informazione, della comunicazione e voglio ricordare la campagna che è stata appena promossa dalla RAI eh per sensibilizzare le vittime dell'estorsione dell'usura a scegliere di reagire perché chi sceglie trova lo Stato. Quindi mh vorrei dire che l'impegno della eh Comfcommercio eh ha assunto un ruolo predominante in questa fase tra il Ministero dell'Interno e Comfcommercio Imprese per l'Italia da sempre esiste un solido rapporto eh che eh ovviamente in periodi di difficoltà come quello vissuto fino ad ora ha avuto l'opportunità di stringersi ancora di più proprio per lavorare insieme per far vedere anche a quelli che sono gli associati che lo Stato c'è e la presenza dello Stato è fondamentale perché secondo me rappresenta quello che è un processo di democrazia che è necessario che non venga mai meno. Quindi questa collaborazione eh ha ricevuto un ulteriore impulso con la stipula il quattordici luglio dello scorso anno di una nuova intesa proprio volta a rafforzare quelli che sono gli impegni comuni per la prevenzione dei fenomeni di legalità eh così anche significativo è il cosiddetto rating di legalità che costituisce una una attestazione eh conferita attribuita dall'autorità garante della concorrenza del mercato alle imprese che assumono dei comportamenti corretti ispirati a principi etici. Quindi le profique energie che abbiamo sviluppato insieme con il presidente Sangalli ehm sono riguardano anche altri eh fronti e mi riferisco a quelli che sono eh i più avanzati sistemi di eh video di allarme antirapina in grado di dialogare direttamente con le forze di polizia e consentire un tempestivo intervento in caso di necessità. E in quest'ottica eh tra l'altro nel a dicembre del dello scorso anno abbiamo stipulato anche un protocollo per favorire l'immediata eh trasmissione delle segnalazioni di allarme attraverso corregamenti diretti anche tra gli esercizi commerciali e le sale operative delle forze di polizia. Ultimamente con la Feder Preziosi in data 4 dicembre quindi di recente 2020 eh la Federazione Italiana Tabacchi mh abbiamo eh il 30 dicembre 2020 abbiamo tenuto pur tenendo conto della specificità dei rispettivi settori abbiamo eh diffuso delle pratiche buone pratiche che potessero valere per tutte per tutte le le circostanze eh necessarie. Quindi il ministero dell'interno come al solito è sempre a fianco dei cittadini delle categorie economiche con l'obiettivo di rendere ehm nella prospettiva appunto del rilancio economico e produttivo del paese sempre più solidi i i presidi di legalità che sono secondo noi una condizione imprescindibile per la crescita e per lo sviluppo del nostro paese. Quindi vi ringrazio e davvero io credo che eh la giornata di oggi sia stata importante da due punti di vista. Il primo è sicuramente la diffusione dei principi di legalità che mai come oggi devono essere il nostro faro e il secondo motivo voglio vederlo come speranza per il futuro perché in vista delle riaperture eh ponendo un'attenzione particolare sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Grazie.